Musica Ben ritrovati con il Tg Venezia di Caffè TV 24. Apriamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti sulla diffusione del coronavirus nel nostro territorio. La percezione è che i contagi continuano ad aumentare in maniera consistente sia ormai da giorni e i dati del bollettino emesso alle 8 di questa mattina da Azienda Zero lo confermano. Oggi si registrano 1.083 nuovi casi in Veneto con Venezia capofila con più 450 contagiati. Il dato va precisato e è parzialmente falsato poiché si tratta di un ricalcolo relativo anche ai tamponi positivi registrati nei giorni scorsi. Il numero degli attualmente positivi nel veneziano sale quindi a 1.927 mentre in regione il numero tocca quota 11.433. Per quanto riguarda i ricoveri i pazienti in cura negli ospedali veneti sono 590 di cui 495 positivi, 56 in gravi condizioni e 95 negativizzati, 10 dei quali ricoverati in terapia intensiva. In provincia invece sono 29 le persone ricoverate ad Olo, 29 al Santi Giovanni e Paolo di Venezia, 15 all'Angelo di Mestre, 1 al Fatebene Fratelli, 17 a Villa Salus, 1 grave a Mirano, 14 a Jesolo e rispettivamente una terapia intensiva a San Donà e 1 a Porto Gruaro. E verso le 11.30, proprio nei pressi di Porto Gruaro lungo l'autostrada A4, un tamponamento ha coinvolto tre autoarticolati in uno dei quali a seguito dell'urto si è sviluppato un incendio. Il conducente del veicolo incendiato è riuscito ad uscire dall'abitacolo prima che fosse troppo tardi ma è rimasto gravemente ustionato, illesi invece gli altri due conducenti. L'autostrada è stata immediatamente chiusa nel tratto tra Porto Gruaro e San Sistino in direzione Venezia, l'ingresso allo svincolo di Porto Gruaro chiuso ed è stata imposta l'uscita obbligatoria. Sul posto, dopo poco l'incidente, sono arrivate le ambulanze del SUEM 118, i vigili del fuoco con due autobotti e la polizia stradale che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. Alle ore 12 si registravano 5 km di coda tra Latisana e Porto Gruaro in direzione Venezia e alle 13.30 i vigili del fuoco erano ancora sul posto per terminare le operazioni di messa in sicurezza dell'area. Trasporti, scuole e servizi in sciopero generale nazionale. La protesta, prevista per il prossimo venerdì 23 ottobre, coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati ed è stata indetta dalla sigla sindacale CUB, Confederazione Unitaria di Base. Il sindacato rivendica una riforma degli ammortizzatori sociali al fine di garantire un reddito per periodi lunghi, l'aumento dei salari e delle pensioni, la riduzione degli orari a parità di salario e la pensione a 60 anni o con 35 di contributi. Ma vengono richiesti anche una riduzione della tassazione in particolare sul pubblico, l'introduzione di un tetto agli affitti privati con il blocco degli sfratti e un rilancio del ruolo dello Stato negli asset produttivi del Paese. Forte la pressione per la tutela di due settori nello specifico, ovvero quella della sanità, dove si chiedono investimenti, e quella della scuola, a cui è imprescindibile garantire nuove strutture e nuove assunzioni per far fronte alle necessità di questo periodo di emergenza. Oggi, mercoledì 21 ottobre, a fermarsi sono stati i lavoratori del comparto multiservizi per una protesta indetta dai sindacati confederali che ha coinvolto gli operatori del settore pulizie, ristorazione, mense e portinerie, con presidio al Ministero del Lavoro a Roma e assemblee nelle varie città. Ma torniamo ora nel veneziano. I militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza hanno scoperto e sequestrato una darsena abusiva a Chioggia, che comprendeva un'area demaneale di 750 metri quadrati, prospicente uno specchio acchio di 450. Alla verifica dei titoli di concessionari, ovviamente inesistenti, è seguito un sopralluogo dal quale è emersa la presenza di scarichi acquei non autorizzati, nonché lo stoccaggio di rifiuti pericolosi come batterie e oli esausti, riconducibili alla manutenzione delle unità da di porto. Le fiamme gialle hanno sequestrato anche una gru, un gruppo elettrogeno ed una colonnina di servizio per l'alimentazione di acqua e elettricità in attanti ormeggiati. È stata poi denunciata una persona, unica occupante dell'area. Concludiamo come sempre con le notizie sportive. Non è stato un ritorno fortunato quello della Reier, che vuole in Europa dopo lo stop forzato causa Covid. Lo sforzo degli Oro Granata non è infatti riuscito a interrompere l'escalation di vittorie della Juventud Badalona, che vince in casa con un 92-78 finale. Non vince, ma stravince invece il Venezia, che infligge quattro gol al pescare inerme al terzo KO. Un risultato che fa tanto godere i leoni quanto traballare la panchina di Oddo. Era questa l'ultima notizia di oggi, vi lascio ora ai prossimi programmi di Caffè TV 24 e vi auguro una buona visione. Grazie a tutti.